È un percorso esperienziale, culturale, sensoriale che ruota tutto intorno al mondo del cioccolato in tutte le sue forme e declinazioni. A pochi giorni dalla Special Edition, tutta da gustare di Aero Chocolate Avellino, c'è grande fermento in città, pronta ad accogliere gli appassionati del cibo degli dèi. Abbiamo voluto rendere omaggio a una terra che ha delle ricchezze e un patrimonio legate al mondo del cioccolato importante. Intanto la nocciola, capitale della Nat Valley, è un prodotto che si sposa benissimo con il cioccolato e lo facciamo anche per rendere omaggio a un popolo, quello campano, ma poi anche quello che si riferisce un po' all'ambito del centro-sud, che tantissime volte sono venuti a trovarci a Perugia e quindi abbiamo voluto restituire la visita venendo a realizzare questo evento dal 9 al 14 febbraio. Ma il presidente di Aero Chocolate come preferisce mangiare la cioccolata? È sufficiente forse sapere qual è il mio indirizzo e-mail, che è fondente per sempre, chiocciolaerocioco.com E in vista del Festival del Cioccolato nato a Perugia nel 1994, ieri sera Est Bistro ha voluto dare il benvenuto ad Aero Chocolate organizzando una chocolate dinner, proponendo una cucina moderna dal gusto tradizionale da cui raffiorano sapori classici con un unico denominatore, il cioccolato. La nostra mission è quella di dare uno spazio ad Avellino che forse fino ad oggi non c'era, diciamo, quindi un po' di cucina del territorio, un po' di modernità, siamo solo all'inizio di un lungo percorso, perché poi alla fine siamo nati da poco e anche con un po' di voglia di divertirci fondamentalmente. Un progetto nuovo, quello di Est Bistro, che proprio in occasione di Aero Chocolate Avellino, omaggia questa speciale edizione con eventi dove il cacao sarà protagonista nel menù per tutta la settimana di Aero Chocolate. La prossima settimana abbiamo in programma, abbiamo in calendario un po' di eventi legati a questo grande avvenimento che renderà Avellino protagonista, che è Aero Chocolate. Un menù degustazione, che ha a suo centro sicuramente il territorio, il cacao che accompagna e che si destreggia su tutti i nostri piatti e poi avremo ospiti degli artigiani del settore di Avellino, degli artigiani irpini, che porteranno i loro prodotti e metteranno proprio le mani in pasta all'interno della sala del bistro. Una sei giorni di attività e goloso intrattenimento con Aero Chocolate Avellino per far conoscere il mondo del cioccolato, il prodotto dolciario più amato nel mondo. Lo si può apprezzare in tante forme, liquide, solide ovviamente, e chiaramente la qualità del cioccolato è importante scoprirla, conoscendo però anche il frutto che lo genera, cioè il cacao.